dunque ragazzi come va mi è stato chiesto di mostrare al meglio i vetri oscurati non so se si vede la differenza quello davanti non è oscurato questo qua è oscurato siccome il lavoro fai da te non era molto professional allora ho pensato nella poca professionalità che mancava di mettere questa faccina guarda che bella siccome non era venuto ben tirato allora l'ho fatto così fantastico però comunque si vede no perché mettendo le tende quando poi devi fare retromarcia è un casino cioè non si vede bene capito e questa è la vista dall'interno verso l'esterno ecco prima avevo tutte le tendine le tendine adesso sono finite come copricuscino e qua ecco la la copertura del del vetro montato questi qua qua era un casino metterlo dai era difficilissimo allora considerando che lì non era venuto troppo per il meglio ho detto vabbè allora qua ci facciamo modello picasso no capito e quindi è venuto così direi che va benissimo ecco qua una tendina prima avevo le tendine adesso sono rimasti i porta tendine però con le tendine ripeto nel fare la retromarcia non si vedeva bene cioè no ai fianchi rimanevi un pochettino invece così almeno perché ci sono sempre i curiosi che vengono no e devono guardare come all'interno il bucanca e allora così adesso guardano cioè se poi ti avvicini proprio no se ti avvicini proprio dentro riesce a vedere però comunque si vede da fuori cioè devi proprio avvicinarti no e quindi si vede si vede non si vede carità eccolo qui è rimasta la nostra bella le nostre belle tendine comprate in mexico e voilà e questo il gioco è fatto eccolo qui dall'altra no si vede benissimo i love you oggi facciamo tre minuti proprio le diverse posizioni nella waz le diverse posizioni nella waz dalla salita sistemare il tappetino dalla salita aggrapparsi il volante inserire la chiave ora faccio un'etromarcia ma quindi che faccio un'etromarcia le diverse posizioni sono queste qua una con il finistrino giù perché è come il defender il l'angolo è molto stretto quindi rimarresti così molto stretto quindi una e questa qua dove guidi in questa maniera fa che avevo la marcia inserita comunque non c'è problema una è questa qua con il gomito di fuori un'altra che l'ho scoperta l'altro giorno è questa qua attenzione che questa è fantastica questa è fantastica praticamente puoi guidare in questa maniera puoi guidare così intanto che guidi c'hai il finestrino aperto e vai da questa parte questa è fantastica questa qua poi un'altra è questa qua quando hai già fatto parecchi chilometri oppure sei stanco oppure magari hai la moglie che parla di dietro e tu la sei così appoggiato qui e puoi guidare con i gomiti capito? qui così si vede con i gomiti si guida con i gomiti un'altra è questa qua un'altra è questa che vi ho appena fatto vedere un'altra è questa qua dove sei appoggiato qui al motore quindi guidi con una mano e con l'altra sei appoggiato qua ti potresti anche appoggiare così però sei troppo basso devi metterci un cuscinetto qualche cosa per appoggiare il gomito capito? per appoggiare il gomito un'altra ah un'altra viene di qua che faccio vedere qua un'altra volta la distanza la distanza a proposito non sono vestito come quello di Jurassic Park questo guardate attenzione frizione piede se tu guidi in città devi avere tutto questo stacco per andare a schiacciare la frizione cioè sono 20 centimetri che devi staccare di qua devi sempre essere pronto riflessi pronti è una macchina che ti tiene inattivo il quadricipite soprattutto quando viaggi in città e la stessa cosa è per il freno la stessa cosa è qua per il freno tac dal freno cioè dall'acceleratore al freno devi essere molto attento allora questa qui era una guida quella attraverso quello lì questa qui un'altra questa qui un'altra questa qui un'altra che puoi essere appoggiato così però è un po' così e cos'altro? niente direi che mi sembra che è tutto ah ecco un'altra cosa quando è chiuso e devi tirare giù il finestrino attenzione che chiudo ora ovviamente non si vede quando tiro giù il finestrino però vieni qua con la telecamera per filmare dentro praticamente qua quando giri il finestrino capito? quando giri il finestrino e ti viene proprio che ti fa il depilé nella gamba cioè nel senso che è proprio attaccato qua così no? questa qui è l'unica 17 è l'unica è l'unica